La scarpa da trekking Dolomite Nibelia GTX è il prodotto pensato dall'azienda italiana per soddisfare le esigenze degli appassionati di escursionismo, fast hiking e camminate in montagna o su terreni sterrati. Leggerezza e traspirabilità sono assicurati dalla tomaia in tessuto elasticizzato, realizzata con materiali specifici, in grado di renderla estremamente ariosa, mentre la massima protezione da acqua e fango è garantita dalla membrana Gore-Tex Invisible per un conforto eccezionale e un piede asciutto in qualsiasi condizione meteo. Morbidezza e grip sono eccezionali grazie al design originale Dolomite, all'intersuola in EVA e alla suola Vibram realizzata con una mescola in gomma MegaGrip in grado di garantire la massima sicurezza anche su terreni umidi e bagnati. La camminata è resa fluida e agevole grazie all'esclusivo Wrapping System, che vede la costruzione elasticizzata della linguetta per una calzata anatomica e avvolgente. L'imbottitura specifica consente al piede di muoversi in modo naturale e la tecnologia regolare in sol sono in grado di facilitare la rurlata del piede durante l'escursione. Con la sua estrema leggerezza ed un peso della singola scarpa di circa 320 grammi, la scarpa da trekking Dolomite Nibelio GTX sarà una fedele compagna durante tutte le attività outdoor, le camminate su terreni non particolarmente difficili e per perfette escursioni in totale sicurezza.